Rassegna stampa di Osimo oggi a cura di Matteo Montesi. Salve, sono Donatella Manessi, mi propongo come candidato a sindaco nel comune di Uffagna e mi presenterò alle prossime elezioni dell'11 giugno 2017. Mi presento con una lista di candidati, siamo tutte persone che abbiamo residenza in Uffagna e crediamo nel nostro paese. Il nostro obiettivo sarà quello di poter restituire ai cittadini di Uffagna tutti quelli che sono i servizi che li sono venuti a mancare in questi anni. Riteniamo che Uffagna è un luogo di grosso valore e per questo il nostro impegno sarà in primo piano. Certamente uno degli argomenti che dovremo affrontare sarà il dissesto che il paese si è trovato in questo periodo, il dissesto sconomico. Cercheremo di affrontarlo anche su quello che ci permetterà la legge ma ci sarà sicuramente ed è questo il pieno rispetto nella grossa disgrazia che è accaduta alla famiglia del bambino che ha avuto questa disgrazia per cui ci riaffronteremo l'argomento nella correttezza e nel rispetto delle leggi. Sono qui in Uffagna da 17 anni, mi sento sicuramente Uffagnese. Ho scelto di far parte di questo gruppo in quanto donna e cittadina che ama il proprio paese e vive quotidianamente i problemi del paese. Lasciando i desideri, sono uno del vecchio gruppo della vecchia amministrazione, ho ricuperto la carica di assessore e di vice sindaco nelle passate amministrazioni. Sono Veronica Perez, nata e cresciuta in Uruguay, ma sono ad Uffagna da 10 anni. 10 anni non sono pochi e questo tempo mi ha servito per imparare ad amare questo paese. Sono Luca Mazzieri, sono 22 anni, sono uno studente di ingegneria informatica qua della Politecnica delle Marche. Sono Giorgio Natalini, ho 35 anni, sono nato e cresciuto qui nel paese. Ho fatto parte delle due volte di amministrazione di Gato, come consigliere prima e poi come capolupo di maggioranza. Sono Foresi Gavriere, ho 25 anni, sono laureato da un anno in ingegneria informatica e dell'automazione qui in Ancona, sto facendo il corso di dottorato di ricerca e robotica sempre nella suddetta università. Mi chiamo Montiore Graziano, ho 42 anni, sono un tecnico specializzato e lavoro personalmente a privata. Ho 43 anni, sono l'unico non uffagnese della squadra, anche se mi reputo uffagnese adottato perché ogni giorno frequento il paese in quanto sono impegato al deposto freschi della SMA e anche membro della locale associazione. Mi chiamo Donatella Manenti e invece mi candidò a sindaca di Uffagna. Abito qui a Uffagna dal 2006 e troverete comunque nella cartellina che vi è stata data tanto un profilo mio della mia vita, per cui non sto adesso a raccontarvi le mie cose. Rassegna stampa di Osimo oggi a cura di Matteo Montesi